Assessore Davide Caporale, anche lei oggi in conferenza stampa. Assessore, le impressioni di questa conferenza stampa? Parto dalla fine, l'incontro con i tifosi è sempre piacevole quando c'è un chiarimento. In questo caso dobbiamo ascoltare e fidarci di quello che ci dice la società. I ragazzi hanno fatto capire che i giocatori non si possono trattenere quando vogliono andare via. Se sono andati via un motivo c'è, non è quello di svenderli perché assolutamente non è di proprietà dell'Angiano, ma sicuramente avranno avuto delle proposte diverse e il Presidente lo ha detto chiaramente. Quando ci sono delle richieste e delle possibilità da parte di altre società di pagare di più i giocatori è giusto che un giocatore faccia la propria scelta. Detto questo la società ha anche detto che è convinta di potersi salvare. Assessore ci sono stati dei riferimenti anche al progetto Stadio, come stanno le carte ad Oras? Ma la società fino all'altra mattina, martedì, è stato in comune, il progetto lo vuole portare avanti. Gli hanno chiesto anche per quanto riguarda il centro sportivo a Frisa, hanno detto che stanno aspettando il microcredito per il finanziamento. Sono stati chiari la società, così come sono stati chiari con i tifosi. È normale che stiamo parlando del quarto anno di Serie B, vorremmo il quinto anno di Serie B, tutti auspicano di rimanere in Serie B. Capiamo ragazzi che i momenti sono difficili e anche per le migliori società. Il Como è una società che sta ultima in classifico, ha speso una migliaia, milioni di euro, purtroppo non si salverà o sarà difficile che si potrà salvare. Per noi era un sogno la Serie B, speriamo che rimanga per il quinto anno, ma comunque hanno dato delle garanzie che degli interventi per fine mese ci saranno.